Ehi, ma che cosa abbiamo qui? Ciao, come mai te ne vai tutto solo? A quest'ora di notte può essere molto pericoloso. Oh, non mi trattare così. D'accordo, non le darò più del tu. Sempre se ne sarà sicuro. Oh, su, mi dica, cosa sta facendo a quest'ora per le strade? Ah, un appuntamento. Un appuntamento al buio. Cavolo, siete così carini quando vi imbarazzate per le cose così stupide. Oh, mi scusi, mi piace valutare la merce, per questo tendo a toccarla. Un attimo mi faccio controllare il mento. Irrispettosa. Non penso proprio di essere irrispettosa con una creatura così inferiore. Cercavi di scappare? Vede, la notte è pericolosa, ma non è pericolosa per i ladri, o per le persone che vogliono fare del male, o per gli ubriachi. Assolutamente no. Quelli si possono distruggere in un battito di ciglia. No, ciò che intendo io riguarda per lo più creatore. È inutile che cerchi di scappare da me. Io sarò sempre davanti a te. Sì, tornerò a darti del tu, perché tu non sei superiore a me, né tanto meno del mio stesso livello. Tu sei solo carne. È inutile che provi a urlare. Ti pare che qualcuno scenderà davvero per aiutarti contro chi poi? Oh, non ti conviene, perché in un momento sono qui e in un momento... Mi hai vista, vero? Sì, ero proprio sopra quel palazzo. Quanto mi piace divertirmi con il mio pasto! Oh, ti sembra che parli in modo strano? Ma come? Sei pure stupido, oltre che essere semplice carne? D'accordo, allora ti darò qualche indizio. Chiedimi quanti anni abbia. Lo so che una signora non si dice, ma io non sono una signora, sono una signorina, anzi sono piuttosto giovane. E ti ho appena ordinato di chiedermi quanti anni abbia. Coraggio! Oh, che domanda inaspettata! Beh, ne compio 342 questo giugno. No, non sto scherzando. No, non ho 42 anni. Ho davvero 342 anni. O perlomeno li devo ancora fare, ma sa. Ehi, sono pure piuttosto giovane per la mia età. No, non sia così spaventato. Alcuni ci danno la caccia, ma altri vorrebbero solo che diventassimo i loro amanti, tipo. Ma chissà qual'attrattiva provano per noi. Per noi voi siete solamente della carne. Puro nutrimento. Avete la stessa valenza di una mucca. Tu ti faresti mai una mucca? Com'è amante, intendo, non per altro. Oh, non hai ancora capito nulla. D'accordo. E se adesso io faccio cheese, noti qualcosa di strano? Esatto! Sono una vampira. E sai, sono pure tanto, tanto, tanto affamata. Adoro troppo sbucare all'improvviso dietro il vostro orecchio per fare così. O così, 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 così. Non puoi scappare da me e non puoi neanche affrontarmi minimamente. E pensi che mi faccia intimorire da una minaccia simile? Colpisci mi se n'hai il coraggio. Sta tranquillo che, anche se sono di sesso femminile, non sono di certo più debole di te. Affatto. Mossa spagliata. Non avresti dovuto farlo, caro. Sai, ero uscita a quest'ora perché... Beh, perché sai, noi a quest'ora viviamo praticamente. E sai, 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 sai... Ero uscita solo per nutrirmi, per la mia dose quotidiana. Però... E' da un po' che non ho un mio cucciolo personale. Beh, sai, di solito noi facciamo la stessa cosa che voi fate con alcuni animali come cani, gatti, criceti, serpenti, lucertole, tartarughe. Avete una strana fissa per i rettili, ma comunque... Vi prendiamo e vi teniamo come animali da compagnia. L'unica differenza è che... Come dire, non penso che voi scuoiate la pelle viva del vostro gatto per nutrirvi della loro carne. Stai fermo. Non penso proprio che ti lasciar andare dopo le offese che mi hai appena regato. Se fossi stato più bravino... Oh, stai tremando. Ti piace il mio tocco non appena... Poccio il mio dito sul retro del tuo collo? Però così non va bene, è troppo teso. Mi dispiace, ti toccherà sentire un po' di dolore. Ma dovrei tenere duro, perché tu adesso sarai mio. L'ho appena deciso. Oh, è inutile che ti metti a urlare. Tanto nessuno verrà mai per te. Ora stai zitto. E... Aspetta che la tua padrona finisca il suo pasto. Oh, è inutile che la tua padrona finisca. Questo è... È prelibato. No, meglio. È qualcosa che... Neanche il nettare divino potrebbe essere paragonato. Non ti lascerò mai più andare. Tu... Sei mio.